La stagione 84-85 rimarrà indubbiamente alla storia perché a vincere il campionato quell'anno fu il Verona di Osvaldo Bagnoli. Un campionato atipico dove fallirono bene o male tutte le grandi, questo non toglie nulla al merito della squadra scaligera anche perché il Verona nel corso degli anni precedenti aveva già dato dimostrazione di grande solidità ma quella squadra straordinariamente allenata e plasmata da Bagnoli con i Garella, i Briegel, i Di Gennaro, i Fan, i Galderisi, gli Elkier, insomma riuscì a vincere un campionato davanti al Torino che nel girone di ritorno sopravanzò l'Inter che aveva tenuto il passo bene o male fino al girone d'andata. Quindi una vittoria storica di quel Verona capace di incantare e di ottenere il suo primo e unico scudetto. Ma in quella stagione vorrei segnalare la terza vittoria consecutiva della classifica capocannonieri di Michel Platini che non solo vince per tre anni consecutivi la classifica dei marcatori con 16, 20 e 18 gol ma che nei tre anni riesce anche a vincere il pallone d'oro per tre volte consecutive. Veramente uno straordinario talento, un campione fantastico di cui si innamorò l'avvocato Agnelli che praticamente decise di acquistarlo dopo un amichevole vista allo stadio dei principi tra la Francia e l'Italia. Platini che è arrivato alla Juventus con la cifra di 146 milioni quindi un investimento che si è rilevato quanto mai azzeccato non solo per il grandissimo e straordinario talento di Michel Platini quanto anche per quello che era il valore del giocatore. Giocatore che è nato nel Nancy poi nel Saint-Etienne da dove appunto lo prese la Juventus. Perché poi Agnelli vedeva in lui quel giocatore geniale, quel giocatore che regalava divertimento. Io credo che i tifosi juventini si siano divertiti tanto in quel periodo non solo vincendo il campionato ma vedendo un giocatore come Platini. Pensava prima degli altri, sapeva prima degli altri cosa fare e quindi lui che in fin dei conti non era una vera e propria prima punta si è poi rilevato un giocatore non solo hastiesman ma soprattutto un grande realizzatore.